Ciao ragazzi! Ciao ragazze! Oggi voglio accontentare le mie spettatrici più piccole. È da tantissimo tempo che mi chiedete di fare il bagnetto alla mia bambola Redborn. Tra tutte le mie bambole Redborn ho deciso di prendere Ella. E visto che è una bella giornata di sole, abbiamo deciso di fare il bagnetto a Ella nella nostra terrazza. Ella sta ancora dormendo. Andiamo a svegliarla. E' già sveglia! Vieni, adesso andiamo a fare il bagnetto. Eccola qua! La nostra Ella! Sei pronta per fare il bagnetto? Adesso andiamo a fare il bagnetto a Ella, ma prima la dobbiamo spogliare. Vero Ella? Mamma, intanto che spoglio Ella, vai a riempire già la bacinella d'acqua. Ok! Allora... Ah, piccola Ella! Non vedo l'ora di fare il bagnetto. Allora, direi che l'acqua così può bastare. Te a che punto sei? Gli hai tolto il pannolotto pelliccioso? Sì! Adesso le andiamo a togliere il vestitino. Ce la fai a toglierle il vestitino? Aspetta! Sì, ce la faccio. Aiuto! Aiuto! Ho capito, devo intervenire io. Allora, le braccia le abbiamo tirate fuori. È stata un'impresa, ma ce l'abbiamo fatta. Mi sa che Ella sta ingrassando un po', sta mangiando troppe pappettine. Per quello che non si toglieva quel vestito. Che carina che sei, tutta nuda così! Guardate che bella che sei. Che bella Ella, che fa anche rima. Allora, pronta a aprire il bagnetto? Sì! Come fa un orato a parlare? Non può parlare. Allora, mettiamo il bagno schiuma nell'acqua. Noi usiamo il nostro perché fa più schiuma. Fa tutto il volo. E noi vogliamo tanta schiumetta. Sei pronta, Ella? Ella è felicissima di fare il bagnetto. Questa schiuma! Evviva! Ah, è anche bella tiepida. Ho fatto proprio la temperatura giusta per il corpo di un piccolino. Di una piccolina. Ok, piccolina. Andiamo ad inserire Ella dentro la vasca. Eccola qua! Galleggia perché è troppo magra. Ma piccola Ella! Wow, che bella l'acqua! Beata Ella! Che bello! Mi ci vorrei mettere anch'io dentro questa bacinella. Ci sto? Ci sto dentro la bacinella? No, non ci sto. Laviamola per benino. Qui abbiamo la spugnetta. Ovviamente rosa. Ecco qua, la laviamo tutta per bene. Insaponiamola bene. Le laviamo i piedini. Anche un po' la testolina? Anche un po' la testolina. Oh, poverina Ella! Tutta l'acqua. Guarda che la mamma ti fa andare il sapone negli occhi. Ma insomma. È tantissimo schiuma, guardate. È bello! Così almeno è anche tutta profumata. Tutta bella profumata Ella. È pulitissima e profumatissima. Noi abbiamo preso una paperella da metterle dentro l'acqua. È vero, io c'ho lì le paperelle. Potevamo prenderne una. Andiamo a prendere? Vai a prendere le paperelle. Dai, così Ella gioca. Ok. Ella, tu rimani qui con me. Non ti muovere da qui, eh? È arrivata Gilevra! Ecco la paperella! Ella, la puoi? Sì, la voglio! Così ci può giocare. Ecco qui. Adesso sì che è proprio un bel bagnetto per piccoli. Intanto la insapona ancora un po'. Così è pulitissima. Qua, 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 qua. Qua, 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 qua. Allora, se tu sei la mamma di Ella, io sono la nonna di Ella. Sì. Guarda! Si è... Si è... Si è... Ma la mamma sa per strapparti in un belico. Allora, sono già diventata nonna. Oddio! Ella? Fa tutto rima. Ella, tieni la paperella. È vero, forse è io. Anche con Bella. Ella, sei bella. Ella, sei bella con la tua paperella. Ti piace il bagnetto dentro la bacinella? Con la nonna pazzerella? No. Sì, che gli piace. Quanta schiumotta. Oddio, mi ha fatto una bolla. Guardate! Mi viene voglia di fare il bagnetto anche a me. Sì. Noi possiamo fare la doccia. Lì c'è la doccia, vedete? Però non fa ancora abbastanza caldo per mettersi sotto la doccia qui in terrazza. Poi, l'abbiamo già detto a qualcuna di noi, a qualcuna, scusate, di voi nei commenti, che tra poco monteremo la piscina. Sì. E quando monteremo la piscina ve la faremo vedere. Anzi, quasi quasi la montiamo proprio insieme a voi. Sì, faremo un video della nostra piscina che mettiamo qui in terrazzo. Esatto. E voi potete vedere come la montiamo. Noi facciamo sempre tutto con voi ultimamente, eh? Sì. Avete visto che andiamo a fare shopping con voi. Noi vi portiamo dappertutto. Promesso che vi portiamo dappertutto. Anche sulla luna. Quando andremo sulla luna. Ve lo diremo. Un po' difficile. Comunque, quando monteremo la piscina te lo faremo con voi. Così faremo il primo bagno insieme a voi. Adesso la insapone un po' con le mani. Ella è felicissima. Che bello. È tutta inschiomata. Che profumo queste bolle. Ma guarda che ne va l'occhio. La schiuma l'occhio. La deve essere pulita anche in testa. Meno male che ci sono io, Ella. Meno male. Adesso anche i piedini. È morbidissima sotto l'acqua. Che bello. Poi l'acqua è veramente calda. E Ella, Ella, Ella gradisce. Sì. Ella, ti piace la paella? Cosa c'entra? C'entra. Ti piace più la paella o la paperella? Mi sa che gli piace più la paperella. Direi di sì. Ma adesso è tutta pulita. Che bello. Adesso direi che possiamo risciacquarla. Cosa dici? Adesso che è tutta bella insaponata. Aiuto, sono tutta piena di schiuma che ho. Non schizzarmi eh. Non schizzarmi. No, no, schizzarmi. No, come la farina. Ah, è proprio bello. Adesso passiamo. La risciacquiamola fuori. E la laviamo. Con l'acqua. La risciacquiamo con l'acqua. Perché la bacinella è tutta piena di schiuma. Monti, cerca di non lavarti pure tu eh. Oddio, voi lo sapete che Ginevra è una pasticciona? Che cosa uscirà fuori da questo risciacqua? Mettiti di lato, non stai lì. Metti l'acqua calda eh. Sì, ma non metterla in faccia. Sposta l'aiuto, poverelle. Tienila così. Aiutatemi ragazzi, aiutatemi vai. Ma le va in faccia. Devi tenerla sotto. Aiuto. Eccola qua. Evviva. Alzati tu che ti bagni tutto. Ragazzi aiutatemi voi come devo fare con Ginevra. Perfetta per ella. Ha ancora schiumotta? No. No? Allora chiudiamo. E lascia. Guarda che Ginevra con i piedi a bagno. E la mettiamo nella copertina. Avvolgila bene. Ecco la nostra Emma. Eccola. Sedetevi qui. Qui al sole. Così si asciuga bene. Lì. Ma non da sola. Ma poverina. Tu ti devi sedere con la bimba in braccio. No. Lei vuole restare in braccio con me ma senza sedersi. Ah ecco. Avvolgila bene. Anche i capelli. Ma se non ne ha di capelli. Non ha capelli. Vabbè anche la testolina. Dai che mi hai capito. Ecco adesso diventa una befana. Guarda. Una befanina. Tutta incappucciata. Ha un musino così carino. Questa bambola qui. Guardate quanto è bella. Io l'adoro. Mettiamola un po' al sole. Così si asciuga più velocemente. Mi facciamo fare anche un saltino? Scusate ragazze. Sono stonatissima. Meglio che non canto più. Allora Ella si sta asciugando. È già asciutta in realtà. Si fa in fretta ad asciugarsi eh. Adesso la dobbiamo vestire. Dobbiamo rivestirla. Anche perché secondo me le è venuta un po' di fame. E forse potremmo darle la merenda. Le prepariamo la merenda. Si. E poi cosa le facciamo fare? La vestiamo? Così poi la vestiamo. No prima la vestiamo e poi diamo la merenda. Ok? Ok. Oh dai rivestiamola. Eccola. Ho preso le cosine per preparare Ella. Allora facciamo un po' vedere che cosa abbiamo preso. Allora ovviamente vi ho preso un pannolino. Guardate che bello. Che carino. Che era mio di quando ero piccola. Qui c'è la merenda. Il latte. Il latte. Gli hai fatto il latte? Si. Poi questo. Il bavallino. Un bavallino per non sporcarsi. Per non sporcarsi. Una fascia per capelli. Una fascia per capelli. E il vestitino. Il vestitino. Un vestitino e una crema. E il borotalco. Che ella si vergogna di farsi vedere il sederino da tutti. Eh poverina. Copriamo lì questo sederotto. Ecco qua il pannolino. Credo che sia un po' grande per lei. Perché le bambole reborn che usa per questi sono molto molto grandi. E le altre sono più grandi. E anche pesantissime. Eh vabbè dai. Questa è leggera invece. No dai lì sta. Eh lo facciamo andare bene dai sì. Poi leghiamo questo. Ma non la devi mettere la testa in giù ragazzi aiutatemi. Allora dobbiamo trovare questo. Così si mette. Vero? Sì. Lo metto qua. Anzi qua. Anche questo. Io lo togliamo. E lo mettiamo qua. Ecco ella con il pannolone. Eccola. Con il suo pannolone. Può fare un sacco di pipì qui dentro. Perché è talmente grande. Eh certo perché io questi li uso per le altre bambole. Eh sì. Allora poi vestitino. Sì. Adesso ne mettiamo il vestitino. Guardate che bello. È lo kitty. Che carino. Adesso mettiamo. Lo mettiamo dalla testolina. Sì. Così si fa più in fretta. Aspetta che ti aiuto a tenerla. Eccola qua. Oh che carina. Poi il bavallino. Poi dopo questo mettiamo il bavallino. Aspetta che glielo metto. Dove si mette? Qua. Ok. Fatto. Poi la fascetta. Poi la fascetta per capelli. Che si deve mettere dietro le orecchie. Eccola qua. Che bella. Adesso finalmente può fare la merenda. Sì. Però della pappa sei pronta per mangiare il tuo latte? Sì. Ha detto di sì. Ma ragazze ma si sta bevendo il latte della sua bambina? Ma si sta bevendo il latte del biberon? Ma che cosa stai facendo Ginevra? La stai da un po' vai. Ma povera Ella. Ma guarda. Ma la smetti di papparti il latte di Ella? È buono il latte. Allora. Questo video bagnetto è terminato. Sì. Speriamo che vi sia piaciuto. E come sempre. Iscrivetevi al canale. E attivate la campanellina. Se non volete perdervi nessun altro video. E seguitela anche su Instagram. Un bacione a tutti. Ciao. Ciao. Anche da Ella. Ciao ciao.